Mamma mia che paura, patriarca, 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 mamma mia che paura, oddio, 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 oddio patriarca, oh patriarca va per marciapiedi, che spettacolo, dovrebbe girare a sinistra, vai, ha fatto bene invece, ha fatto bene, ha fatto il secondo che è meglio, grande patriarca, va fino al verano va per marciapiedi, ha deciso che al verano si arriva per marciapiedi, il problema è che la muro se lo trovava al cammino, La camminetta è diventa un po' più ostica la cosa, che gha, mi ha paura stava far cercato accanto al prodotto italico, ha detto ma come ci sei arrivato, io entro di qua e la metto di muso, lui di culo, è salito lì a cosa è entrato al semaforo, si è fatto tempo mezzo chilometro su marciapiedi, oddio, no, 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 dove vai, al verano è dell'apa? ah no giustamente perché vuole andare a fare l'olimpica ha fatto l'aperta ci sono modi e modi per eliminare i genitori questo era quello più crudo il povero colapso prima mi ha detto oggi l'ho tirata un pochettino quanto cammina è ricolosissimo il patriarca oddio santo che aperta che ha fatto oddio santo che terrore non dormo più la notte dopo questa bella vittima vado al verano